Ciao a tutti! Settimana scorsa c'è stata la Pasqua e in quasi tutto il mondo è stata festeggiata. Ma vi siete mai chiesti quali origini ha questa festività? Se non ne conoscete le origini adesso vi parlo un po' di Astaroth e le origini della Pasqua. Oh yeah! Secondo la religione cristiana e in demonologia Astaroth è uno dei principali demoni della Gerarchia Infernale, uno dei diretti collaboratori di Satana. È addirittura un principe dell'inferno e viene raffigurato come un uomo nudo con due paia di ali e piedi e mani da drago. In testa ha una corona, tiene in mano un serpente e cavalca un lupo o un cane, a seconda delle raffigurazioni. Talvolta viene anche raffigurato senza cane ma con quattro braccia. I peccati a cui conduce Astaroth sono la pigrizia e la vanità e per salvarsi da questi peccati e dall'influenza del cattivone Astaroth bisogna pregare San Bartolomeo che è il suo diretto nemico e appunto protegge gli uomini dalle tentazioni di Astaroth. Inoltre Astaroth insegna scienze matematiche e può rendere gli uomini invisibili e guidarli a tesori nascosti e può rispondere a qualsiasi domanda. In realtà Astaroth è stato trasformato in demone, come avevo detto, dagli cristiani che si sono appropriati come sempre di tutte le varie divinità di religioni che erano precedenti a quella cristiana e per questo hanno preso esempio dagli ebrei che avevano già iniziato, per sostenere la tesi dell'unico dio, a convertire tutte le altre divinità delle altre nazioni in diavoli, demoni e lui perché il loro era l'unico vero dio. In realtà nella Bibbia c'è scritto che questi erano tutti Elohim e Yahweh, che era quello degli ebrei, era un pari grado a tutti gli altri vari Baal, che vuol dire dio in ebraico, anzi veramente era uno di quelli meno potenti. Comunque dai cananei che stavano proprio nei territori conquistati da Israele, Astaroth era conosciuto come Astarte, che tra l'altro era una divinità femminile, poi il cristianesimo l'ha trasformato in un demone maschio perché i diavoli sono tutti maschi, però Astaroth era una divinità femminile e appunto era conosciuta dai cananei come Astarte, dai sumeri era nota come Inanna, dai babilonesi come Ishtar e gli assiri, gli accadi la chiamavano Ashtarte, gli egiziani la conoscevano come Isis, i fenici la chiamavano Tanit Ashtarte o Ashtaroth, mentre più a nord, dall'altra parte del Mar Nero, dalle parti dell'Ungheria, era conosciuta come Anath. Astarte, Ishtar, come si volesse chiamare, era venerata da tutte queste popolazioni, in ogni posto dove veniva venerata, era venerata come la dea della fertilità e talvolta anche come dea della guerra, ma questo molto raramente. Come dea della fertilità, infatti, molte raffigurazioni la rappresentavano con tutto il corpo cosparso di mammelle, più fertile di così. Ciò che c'è di fatto è che tutte le popolazioni che veneravano questa divinità raggiunsero prosperità, potere economico e crebbero molto. Aveva altari e templi in tutti i paesi del Medio Oriente e anche oltre, fino in Persia, e il suo titolo era Regina dei Ceri, che poi è stato rubato dal cristianesimo attribuendolo a Maria, che ha assunto tante caratteristiche della divinità Ishtar, Astarte, o come la si vuole chiamare. Addirittura la città di Babilonia aveva otto cancelli, di cui il più grande e il più spettacolare, quello per entrare nella città, era il cancello di Ishtar, costruito approssimativamente nel 575 a.C. ed era proprio l'entrata principale di Babilonia. Era uno dei monumenti più impressionanti dell'antico Medio Oriente, era decorato con dragoni, tori e leoni. Insieme a Ea e Enlil, che poi sono stati trasformati in Satana e Basebub, la reputazione di Ishtar è stata distrutta prima dagli ebrei e poi dai cristiani, ma principalmente perché erano le tre divinità più adorate nel Medio Oriente e quindi erano quelle che andavano eliminate per prime e quindi vennero trasformati in demoni. Come sapete, in ebraico si scrivono solo le consonanti, le vocali non vengono scritte. Quindi Ishtar venne scritto come con solo le consonanti e vennero cambiate le vocali sostituendo quelle originali con quelle della parola bochet. Adesso magari la pronuncia è sbagliata. Comunque questa parola significa abominio e da qui capite il cambiamento da divinità a demone. Ma questa divinità non veniva venerata solo in Medio Oriente, veniva adorata anche fino in Europa, fino all'estremità più estreme dell'Europa verso l'Atlantico. Per esempio, gli antichi romani festeggiavano la divinità lunare chiamata Ostara. I Sassoni la chiamavano Eroste, che è la dia della primavera. In Germania veniva chiamata Östern, come tuttora, e Östern vuol dire Pasqua. E anche in inglese la parola Easter, che significa Pasqua, deriva proprio da Ishtar. Ed essendo questa divinità quella che proteggeva la fertilità, durante le sue celebrazioni veniva donato in dono un uovo, appunto come segno di fertilità. E da qui la tradizione di donare l'uovo di Pasqua. Anche il concetto di agnello di Dio è stato preso in prestito, diciamo, da questa festività che si festeggiava durante il periodo zodiacale dell'Ariete, che appunto è tra fine marzo e inizio aprile, quando c'è la primavera e quindi la rinascita della fertilità. Guarda caso, la festa di Ostara coincideva in antichità con l'equinozio di primavera. Proprio in quei giorni venivano piantate le sementi nuove in omaggio proprio a Ostara. E anche l'usanza di donare fiori durante la festa della donna ha origini dalle festività di Ishtar o Ostara, perché durante quelle festività le donne venivano omaggiate di doni e soprattutto fiori. E appunto quest'usanza è rimasta tuttora. Più o meno vi ho detto le cose principali su Astaroth, il cattivone, che in realtà non era così cattivone. Se volete trovare altre informazioni, ne trovate tantissime su internet, potete approfondire. Continuate a seguirmi sul mio canale YouTube 2 Speed Music & Travels, iscrivetevi e attivate le notifiche. Iscrivetevi anche al mio gruppo su Facebook Urbex Mystery e ci vediamo al prossimo video. Oh yeah! 2 Speed Music & Travels